Nella splendida cittadina di Pescasseroli, sede del Parco Nazionale d'Abruzzo, Latteo e Modise, si è concluso il Premio Nazionale di Cultura dedicato Benedetto Croce. L'edizione di quest'anno ha avuto diversi ospiti e convegni. Il premio La Memoria è stato dedicato allo storico Rosario Villari, scomparso lo scorso anno. La cerimonia di premiazione è stata coordinata dalla scrittrice Dacia Maraini e ha visto fra i premiati per la sezione narrativa Massimo Bubola con il libro Ballata senza nome edito Frassinelli, per il giornalismo letterario Flavia Piccini con il libro dal titolo Bellissime edito da Fandango e per la sezione saggistica il libro di Anna Carla Valeriano dal titolo Malacarne edito da Donzelli. Per me è un onore avere ricevuto questo premio perché Benedetto Croce è stato uno dei grandi padri della tradizione liberale italiana e credo che anche Malacarne si inserisca nel solco di una tradizione liberale ovviamente inaugurata da Basaglia. È stato grazie alla rivoluzione di Basaglia che è stato possibile accedere a questi documenti ed è stata una grande rivoluzione liberale perché ha restituito dei diritti a tanti uomini e donne. Quindi al centro di Malacarne ci sono proprio le storie di vita dimenticate di quanti hanno vissuto la reclusione manicomiale. È da tantissimo che sognavo questo importante riconoscimento ed è incredibile riceverlo per un libro a cui sono profondamente legate, bellissime, pubblicato da Fandango. Il mio viaggio è durato quattro anni nel mondo della moda bambino e soprattutto negli stereotipi che questa moda produce. Insomma io vado molto fiero di questa cosa perché è un premio dato dai lettori. Quando è una parte dei premi letterari in Italia sono decisi a volte da giurie o da letterati o da persone che hanno un altro rapporto, insomma, quindi questo trovo che sia una cosa molto particolare di questo premio, molto importante, che siano dei lettori, non degli eruditi, ma che apprezzano una poetica, un mondo, quindi la rendono un premio speciale a cui vado molto fiero.